0-0 e tutti quasi contenti a casa. Anche se non essere riusciti a strappare i tre punti dopo la prestazione fatta a Montebelluna lascia alcuni rimpianti. Ma tant'è, ormai la partita è stata archiviata. Il match del Cartigliano in terra trevigiana finisce a rete inviolate. Le due squadre continuano a viaggiare a braccetto a metà classifica, 18 i punti per entrambi. E' prevalsa probabilmente la volontà di non farsi male. Un punto con una diretta concorrente per di più fuori casa a questo punto della stagione è utilissimo. Ricordiamo poi che i ragazzi di coach Ferronato venivano dal recupero infrasettimanale perso a Feltre. Meglio dunque guardare il bicchiere mezzo pieno e preparare la partita del prossimo weekend. Domenica a Cartigliano arriverà il Tamai.